Ciao, sono Paolo Vacci e vi presento questo Cartago 4.4, un camp veramente ottimo, con una meccanica eccezionale per un ottimo quattro persone. Tufa Alde, contenitori nello spazio sotto pavimento, un grandissimo garage, che c'è tutto, c'è veramente già, ci sono le ruote di scorta che sicuramente le possiamo levare, ma pensate quanto spazio potete metterci qui a interno. Qui sotto le dimensioni, cliccate nella vostra destra in alto che si aprirà la scheda di questo camp con tutte le caratteristiche, dimensioni, chilometri e accessori optional compresi. Una finestra apribile, un accesso confortevole con la zanzariera e qua una bella zona giorno, guardate come è veramente comoda, pensate che l'Alde ha la stufa Alde, quindi ha una temperatura ideale, questo camper per l'inverno sono top perché la stufa Alde è una stufa come a casa, cioè che tutti i mobili sono staccati, per cui l'aria fredda andando in basso viene aspirata e scaldata dalla stufa e poi dall'alto rientra al suo interno, per cui avrete sia il naso che l'alluce caldi alla stessa temperatura. Quindi una bella zona giorno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le finestre destra e sinistra e poi tanti contenitori, 1, 2, 3 e poi questo qua 4, un grandissimo obloco. Poi per fare la letto basta semplicemente abbassare questi schienali. Come vedete il parabrezza è molto basso per cui permette una visibilità unica nel suo genere perché si può vedere a circa 2,70 m i piedi di coloro che passano, quindi è veramente un controllo della strada molto efficiente. Il parabrezza così basso permette ad avere un letto enorme, lo vedete come va in avanti proprio per questo, quindi è un letto veramente grande. Poi il panno crea un maggior isolamento sia acustico che termico. L'oblò sopra il letto, poi facilmente ridiventa zona giorno. Il piano cucina, grande piano d'appoggio, grande lavello, guardate com'è enorme, oltre ad avere tre fuochi molto funzionali. Poi la parte dei pensili, eccoli qua, poi cassettiere, una, guardate che profondità, due, tre, lo scorrevole con il porta immondizie e il contenitore e i vari cassetti. Uno, due, tre e quattro. Frigori congelatore, frigorifero e altre cassettiere, una e una, due. Quindi veramente un grande estivaggio. Poi armadio, con un altro cassettino. E poi un bel letto matrimoniale, che dalla parte sinistra è molto più largo, e dalla parte destra è più stretto, quindi potete metterci tranquillamente, cioè nella parte dei piedi è anche più facile, anche se è più stretto, non compromette niente. Oltre ad avere dei bei pensili, giro giro. Il bagno, qui, water, un bello blow, un bel lavandino, veramente profondo, con piano d'appoggio, e poi qua il pensile, e qua sotto altri due bei contenitori. La doccia comoda, guardate, mi muovo bene. Quindi, un bel camper per estate ed inverno, un bel isolamento, una bella abitabilità, e chiamateci, veniteci a trovare perché lo potete vedere, oppure chiamateci per gli consigli, che siamo a vostra disposizione per potervi far fare un acquisto per la vostra famiglia. E come sempre, agli ottimi prezzi e servizi caravambacci. Ciao!